Ecco che cosa fa Alfonso Signorini prima di ogni diretta del Grande Fratello, a rivelarlo lui stesso. I fan sono rimasti senza parole, perché non pensavano che il conduttore riuscisse a farlo. Alfonso Signorini è uno dei conduttori più in auge del momento, in quanto è diventato nel giro di poco, uno dei pilastri Mediaset. Oltre a essere il direttore del settimanale, chi è anche il presentatore per eccellenza del Grande Fratello. Il conduttore attualmente è alle prese con i casting della prossima stagione, i quali sono gestiti da Giuseppe Garibaldi, l'ex GFino di cui si è sentito tanto parlare nella precedente edizione. Per il momento oltre ad Alfonso non si sa di preciso chi lavorerà al suo fianco, per non parlare dei concorrenti, in quanto i provini sono ancora in corso. In una passata intervista tra l'altro ha rivelato cosa faceva ogni volta prima della diretta del GF, resterete senza parole, in quanto non tutti avrebbero pensato che riuscisse a farlo, visto che la situazione non aiuta sicuramente. Cosa fa Alfonso Signorini prima della diretta del Grande Fratello? In merito al Grande Fratello, stiamo sentendo diverse indiscrezioni su chi potremmo vedere nella prossima edizione del reality, sia al suo fianco in studio, sia chiuso all'interno della casa più spiata di sempre. Per il momento sono due i nomi di cui si sta sentendo parlare in questi giorni. Il primo sicuramente è quello di Cristina Plevani, la vincitrice della prima edizione del reality, la quale con una risposta secca rilasciata sui social ha fatto intendere che non sa nulla di questa voce e che non penserebbe di tornare nella casa che l'ha ospitata per ben cento giorni la prima volta. L'altro nome in lizza sarebbe quello di Vera Gemma, figlia di Giuliano, la quale è nota per aver partecipato a diversi reality. Secondo Alberto Dandolo su oggi, gli autori e Alfonso sono molto interessati. L'attrice figlia d'arte già concorrente di reality show, è stata la prima famosa contattata dalla produzione del Grande Fratello. L'ha dichiarato lui stesso. In attesa di sapere cosa ci riserverà il futuro televisivo in merito alla prossima edizione del Grande Fratello, vi riportiamo le parole del conduttore che lasciò in una passata intervista a TV sorrisi e canzoni. All'epoca si lasciò andare ad un'intervista a cuor leggero parlando di diversi argomenti, tra cui quell'abitudine prima di ogni diretta del reality. Il giornalista gli chiese, prima della diretta mangia? Per tutta risposta Alfonso rivelò, sempre qualcosa di leggero, due cosce di pollo o un filetto di pesce con un contorno di verdure. In molti pensavano che dall'ansia non mangiasse nulla, in realtà ha dimostrato quanto con, la pancia piena, si lavora meglio.